Buon pomeriggio a tutti. Devo dire che è con grande piacere che quest'anno annuncio la prossima consegna e la laudazio del consueto premio Maria Adriana Prolo perché il premio viene consegnato a un signore che abbiamo tutti nel cuore, un signore che è stato un grande amico del cinema in generale, non soltanto del cinema di Torino, lo sapete tutti ovviamente, produttore, distributore, esercente, attore, fra un po' credo che qualcuno ne parlerà ma poi soprattutto appunto con una grandissima, e poi un sacco di altre cose che c'entrano meno col cinema ma poi soprattutto che ha diffuso questa enorme passione e poi devo dire grandissimo amico del festival ma del museo e del premuseo e di tutte le persone che hanno lavorato al museo credo perché Lorenzo Veltavoli è un grandissimo signore, un vero gentiluomo e adesso lascio la parola a tutti quelli che devono consegnare il premio comincia Vittorio Sclaverani Grazie mille Emanuela Sì, questa è la diciottesima edizione del premio Prolo e ringrazio il festival perché il premio è nato qui, ma ha avuto delle tappe fuori Torino ma da dieci anni consecutivi a sede in questa prestigiosa cornice che è il festival e ovviamente è cresciuto insieme al festival diretto da Emanuele e coordinato da tutto il suo staff Ricordo che appunto la Prolo è la fondatrice del Museo del Cinema che ha fondato il museo il 7 luglio del 53 proprio qua dietro in via Riberi 7, la via parallela a via Montebello e tra l'altro erano 7 i fondatori il 7 era un numero un po' particolare a cui era praticamente legata la Prolo erano 6 uomini e una donna ovviamente la Prolo e tra questi c'erano anche l'architetto Leonardo Mosso Pastrone e anche Giordano Bruno Ventavoli che è il padre di Lorenzo che premiamo oggi come sapete il museo è stato gestito dall'associazione della Prolo fino agli anni 80 e da quel momento poi l'associazione ha donato tutto il patrimonio alla fondazione che appunto ora è dedicata alla Prolo e che appunto oggi gestisce il festival il museo e i principali festival della città e l'associazione ha il compito all'interno della fondazione di preservare e valorizzare la memoria storica cinematografica del territorio piccolo inciso rispetto al 53 che è una notizia che abbiamo preso poco fa il 53 è anche l'anno in cui Lorenzo Ventavoli insieme a Vittorio Suave si è iscritto alla Cerea che come vedrete anche nella rivista è un pezzo importante della sua vita la Prolo ha anche fondato la rivista nel 61 che poi comincia ad avere una pubblicazione regolare dal 66 e da una decina d'anni è diretta da Caterina Taricano a cui tra poco passerò la parola vi permetto di ringraziare ovviamente Domenico De Gaetano neodirettore del Museo del Cinema che adesso da pochi giorni è affiancato da un neopresidente Enzo Ghigo visto che il neopresidente è un grande appassionato di ciclismo ci auguriamo che questo nuovo tandem possa rilanciare bene il museo ovviamente l'associazione è a disposizione nel dialogare a partire dalla mission principale di cui ci curiamo che è la memoria storica cinematografica del territorio ma anche ovviamente tutti quei progetti culturali di inclusione sociale penso ai lavori che facciamo in carcere che facciamo nelle scuole periferiche e appunto in territori dove là bisogna andare a portare cultura per invertire una frase di qualche anno fa poco felice ringrazio anche che è presente Gaetano Renda che è nel CDA del Museo e che stasera tra l'altro ospiterà e ci ha fatto la sorpresa di venire oggi anche Mimmo Calopresti che è il grande amico di Lorenzo che forse gli ha regalato l'interpretazione più importante cosa aggiungere ancora? sì certo se portiamo avanti tutte queste progettualità con rigore e passione sicuramente la lezione più alta e più grande viene sicuramente da Lorenzo Ventavoli e tra l'altro diciamo tutte le persone che sono qui presenti che hanno partecipato alla costruzione alla narrazione della rivista come dire ci restituiscono l'ha detto anche il nostro presidente onorario poco fa a Steve della Casa come dire ci sono una serie di figure che ripeto non a caso hanno animato il museo gestito, sostenuto il festival e quindi per questo lascio la parola a Caterina che come dire forse è più brava di me nel raccontare queste diverse generazioni che qua si sono riunite che quotidianamente animano l'associazione grazie grazie Vittorio e benvenuti io prima di parlare della rivista nello specifico volevo ancora sottolineare in parte l'ha già fatto Vittorio come questo premio Maria Adriana Prolo 2019 sia un premio sostanzialmente di ringraziamento proprio perché noi siamo profondamente grati a Lorenzo Ventavoli per quello che è stato in grado di trasmetterci e questo magari senza nemmeno accorgersene di farlo e il bello è questo perché l'ha fatto attraverso l'esempio un esempio che è stato per noi molto importante è stato l'esempio di una grande serietà professionale di un grande rigore di un grande impegno ma nello stesso tempo ci ha trasmesso anche la passione l'entusiasmo per questo lavoro in qualche modo e questi elementi si sono fusi insieme nel corso degli anni hanno reso il lavoro di Lorenzo Ventavoli veramente unico un'unicità che io credo però sia anche figlia della capacità che ha avuto Lorenzo Ventavoli di unire due aspetti del cinema apparentemente inconciliabili cioè il cinema come espressione artistica e il cinema come industria dimostrando di essere da una parte un grande imprenditore e dall'altra parte però nello stesso tempo un intellettuale in senso vero attento al cinema di qualità alla difesa e anche alla valorizzazione appunto del cinema ad essai insomma la sua storia poi parla per lui e insomma lo vedremo lo vedremo dopo non sarò io a raccontarvi tutto questo ma insomma ci sarà un laudatore che meglio di me saprà farlo ecco questa caratteristica diciamo che emerge fortemente anche dalle parole dai racconti degli amici degli storici collaboratori di tutte le persone che hanno avuto l'onore e la fortuna di incontrare Lorenzo Ventavoli nel loro percorso e che sono state raccolte in questa rivista in questo numero mi piace farvelo vedere perché la foto è molto bella le foto sono molto belle questo numero speciale della rivista e anche attraverso la bellissima intervista che Giampiero Brunetta ci ha regalato e che costituisce proprio il cuore di questo numero 104 ecco un numero che come tutti gli altri numeri nati in seno al premio Maria Adriana Prolo vuole essere proprio un strumento di approfondimento di un momento della storia del cinema che passa attraverso lo studio di un personaggio legato appunto al cinema al suo rapporto col cinema e quindi quello che abbiamo fatto che stiamo cercando di fare sono tante piccole monografie che in qualche modo speriamo che siano utili proprio anche in un momento così delicato di passaggio che stiamo vivendo in cui anche la critica cinematografica diciamo che sta praticamente scomparendo ecco quindi questo insomma è il nostro intento però in questo clima di profondo rinnovamento come già sottolineava Vittorio quello che noi stiamo cercando di fare è anche renderci disponibili proprio alla collaborazione all'interazione con tutte le realtà che ruotano intorno al museo scusate al cinema al museo del cinema e questo proprio anche per difendere per rendere ancora più interessante la proposta culturale della nostra città ecco io giuro che ho finito adesso ovviamente farò i ringrazioni mi sono segnata qui un po' di ringraziamenti però vorrevo ringraziare innanzitutto il grafico Roberto Patrucco perché ogni volta mi dimentico sempre di ringraziarlo quindi l'ha seduto grazie per il lavoro straordinario che hai fatto poi Anna Giulia Giordano Ventavoli che insomma ci ha aiutato moltissimo Luca Poma che è un po' veramente il nostro mecenate sia della rivista che dell'associazione poi vorrei invitare qua con noi una persona che potremmo dire veramente è la colonna portante del NIP e in un certo senso accompagnato in tante avventure lavorative Lorenzo Ventavoli questa persona è Angela Greco buonasera a tutti sono anche un po' emozionata e vi chiedo scusa già in anticipo allora leggo perché non riesco a parlare a braccio Vinicio De Morales diceva che la vita è l'arte dell'incontro e dopo 25 anni posso davvero affermare che a nome mio e di Stefania di Giovanni di Silvana e di tutti gli altri che mi hanno preceduto e dei miei colleghi del cinema che quello con il dottor Ventavoli è stato davvero l'incontro e se dovessimo tirare un bilancio questo bilancio è caratterizzato dal segno più più cultura più opportunità più conoscenza più senso etico e soprattutto più amore per questo meraviglioso mondo del cinema per cui grazie dottor Ventavoli grazie Angela grazie davvero grazie veramente a tutto lo staff del NIP perché come associazione ci confrontiamo tutto l'anno e veramente sono veramente delle persone straordinarie che Ventavoli è un grande passate in questo termine un po' giovanile ma anche nella capacità di creare gruppo è un'atmosfera molto bella nel lavorare proprio per questo mi fa anche piacere ricordare che tra i ringraziamenti che Giulia Gaiato ha curato la comunicazione stampa e ringrazio e tra come dire le persone importanti che dirigo il cinema nel nostro territorio e come dire lo portano anche fuori mi fa piacere salutare l'ex presidente dell'associazione museo del cinema attuale direttore di Film Commission Paolo Manera che è anche nel nostro comitato scientifico e questo mi permette di dire prima di passare la parola al laudatore che di ringraziare la nome dell'associazione perché l'anno scorso attraverso un piccolo bando l'associazione ha realizzato questo film War Free prodotto da Valentina Noia e diretto da Milat Panjshir che è stato l'unico film italiano un budget di circa 20.000 euro ma è stato l'unico film italiano selezionato in concorso la sezione War di Venezia adesso è stato recentemente ad Amsterdam a Roma a Bogotà e tra un paio di settimane daremo la notizia perché come dire sapete che nel mondo del cinema c'è un po' l'embargo su alcune informazioni tra un paio di settimane daremo anche la notizia che è stato selezionato uno dei più importanti festival al mondo negli Stati Uniti prego ancora una cosa ovviamente ringraziamo tutti coloro che hanno scritto su Lorenzo Ventavoli non stiamo a elencarli tutti ma lo voglio fare anche perché molti di loro sono in sala quindi veramente ancora grazie perché è stato preziosissimo il vostro contributo grazie a questo punto chiamiamo l'ex presidente del Museo Nazionale del Cinema Sandro Casazza per la laudazio posso sedermi? ho bisogno di stare seduto anch'io grazie lodare Lenzo Ventavoli qua in questa platea di amici di conoscenti eccetera è un'impresa ardua perché ne sapete tutti molto più di me di Renzo di che cosa è Vale che cosa è che persona è che generosità dentro che capacità di impegnarsi sempre con una leggerezza estrema ma dando risultati sempre molto di sostegno alle cose alle iniziative sempre molto forti comunque laudazio sia sì laudazio sia una cosa che mi ha colpito è che la data di nascita di Renzo Ventavoli coincide con l'arrivo del sonoro nel cinema più o meno Garbo Tox e anche Renzo Ventavoli più o meno Tox in quei momenti forse la colonna sonora del film della Garbo era un po' diversa dai vagiti che è di Renzo in quell'età lì però appena arrivato è già nel cinema in un momento di grande trasformazione e che sarà il segno della sua gestione e attività all'interno del cinema affrontare sempre situazioni di criticità di cambiamento e trovare sempre le soluzioni per andare avanti con rinnovato entusiasmo e questo evidentemente era già un segno preludeva appunto a quell'impegno che avrebbe poi portato Renzo per decenni a occuparsi di cinema non soltanto a Torino e a legarlo a questo lavoro a questa attività a questo sapere in maniera così totale e sempre pronta a fornire opportunità nuove anche ai giovani e alle persone che si avvicinavano a questo mondo la prima volta che io conosco Renzo Ventavoli da più di 40 anni allora lavoravo alla stampa e mi occupavo delle pagine di cultura e spettacolo e scrivevo di cinema invece lui era il cinema ed è ancora il cinema per cui è inevitabile che ci incontrassimo sia nei corridoi del cinema poi successivamente a poco a poco con un continuo rimando di fiducia di credibilità si è sviluppata una sorta di amicizia e di fiducia reciproca nelle cose che si amavano ricordo che la prima volta che l'avevo visto era al cinema romano e stracciava i biglietti per il pubblico e mi aveva colpito questa sua eleganza un po' stropicciata con la cravatta della società di canotaggio sembrava un dandy inglese capitato lì per caso però invece poi era estremamente disponibile con gli spettatori con il pubblico a dare informazioni a spiegare che cosa era il film eccetera quindi una maschera di lusso per gli spettatori e io mi ero stupito che una persona che aveva da gestire un'attività così complessa e importante come quella che stava gestendo lui in quel momento avesse poi il tempo anche per andare a strappare i biglietti nei suoi cinema ma piano piano capì che la sua concezione di business di lavoro era legata anche a questo bisognava sperimentare tutto fare tutto controllare tutto e quindi anche quello della maschera era un lavoro che insieme a quello del produttore del distributore dell'esercente dello storico del critico del collezionista serviva per capire qualcosa di più qualcosa di meglio nel mondo che era il suo mondo professionale il cinema nella frequentazione si crea poi ci accorgemmo mi accorsi che Renzo Ventavoli era di un'onestà intellettuale totale era uno strenuo difensore della libertà di pensiero e della democrazia e poi aveva il cinema come nessun'altra cosa al mondo questo creò una base di di reciproca comprensione e per anni abbiamo continuato a vederci incontrarci lavorare qualche volta anche con dei piccoli contrasti per la programmazione per esempio dei film del cinema massimo quando era il museo del cinema ma insomma abbiamo sempre superati abbiamo sempre superati e fino poi arrivare a essere ammesso ai suoi luoghi del cuore perché Renzo Ventavoli ha una serie di luoghi del cuore che sono la Cerea che sono la saletta di Via Pomba dove con un piccolo pubblico selezionato si vedevano le anteprime dei film più importanti che arrivavano nelle sale e poi il Ecorro Ciamelone l'ho sempre saputo che era un suo luogo del cuore ma io non ci sono mai andato perché da buon marinaio che viene da Genova le montagne quando sono troppo alte mi fanno un po' impressione ma lui invece ci andava spesso perché lì c'era a Malciaussia c'era il suo amico Vulpot con cui andava a cena qualche bevuta anche buona di buon vino che è sempre stato un altro degli aspetti che ha reso Renzo un bon vivant con un grande senso del piacere della vita come hai detto in alcune interviste di questi giorni che dice ho vissuto fino in fondo i suoi primi 80 anni sono stati raccontati in una lunga intervista documentario che si intitolava Venanzio come Revolte ecco che era lo pseudonimo con cui Renzo firmava i copioni della rivista di Mario Ferrero ed era un anagramma del suo nome insomma e quindi era un nome del Pum che gli consentiva di avere questo legame con nella sua attività legata al cinema oltre i mestieri che ho dicevo prima c'è stato anche quello di attore ed è stato lavorato con Calopresti e devo dire che quando ho fatto questo film è stato poi immediatamente candidato per il ruolo non protagonista agli Oscar ed è stato sì è stata una sorpresa un po' per tutti ma poi lui lo rifiutò perché diceva che era troppo elitario per il premio e troppo commerciale non è vero è una fake news ma oggi nel giornalismo se non si lavora con le fake news è di una noia quello che si legge quindi l'altro grande amore poi dire no c'è un'altra cosa curiosa che chi ha la rivista Mondognovo può anche vedere direttamente Renzo Ventavoli è l'unica persona che è riuscita a far sorridere Buñuel e lì nella foto poi se lui vorrà raccontare per quale ragione Buñuel ride in quella fotografia tra lui e questo signore che era un agente di di attori americano no? mi pare e questa e la foto è questa questo signore che veniva dall'America aveva detto a Buñuel guarda che in America sta nascendo si sta crescendo un giovane attore che è veramente eccezionale bravissimo e che possiamo prendere anche con pochi soldi perché è ancora agli inizi di carriera a quel punto lì Buñuel incuriosito voleva sapere chi era e questo agente di degli attori americano diede una foto che aveva preso credo dal passaporto dalla carta di identità di Renzo e quando Buñuel lo guardò incuriosito questa foto rimase in sorpresa ma questo è ventavoli e allora è accompagnato da questo sorriso che credo sia uno dei successi più dipertanti ottenuti in quegli anni altri luoghi del cuore sono la Cerea fondamentalmente la sua società di canottaggio dove Renzo ha gareggiato devo dire a livelli di altissimo livello vincendo dei campionati italiani e non so se europei anche solo il campionato con Pippo Bouquet c'è anche una foto in fondo alla rivista e quindi alla Cerea poi non era solo il posto dove Renzo Ventavoli andava a vogare era anche il posto dove portava gli amici dove portava dove lavorava anche a volte alla Cerea ci sono stati tanti pranzi fatti con gente che veniva da Roma colleghi della distribuzione produttori eccetera o anche attori registi Nanni Moretti credo lo stesso Calopresti sarà stato sicuramente alla Cerea o Verdone e questo luogo di culto mi fa fare una riflessione però quando io presidente giocavo a calcio perché mi piaceva il calcio Renzo Ventavoli fa canottaggio Gigo fa ciclismo quindi per diventare presidente del museo del cinema se non è uno sport alternativo non ce la fai e quindi rimane un po' aperto questo questo percorso io credo che la cosa che una cosa che mi ha sempre sorpreso e affascinato di Ventavoli era la sua capacità è la sua capacità di riunire la sua capacità di riunire le curiosità culturali lo stile di un raffinato intellettuale mittele europeo insieme con il radicamento sabauda i suoi luoghi privati del cuore difesi con gelosa e determinata eleganza mi cito che è quello che ho scritto nella cosa non è che rubo definizioni a nessuno e mi cito anche l'ultimo capoverso è stato un lungo percorso quello dell'amicizia con Renzo che mi ha guadagnato il privilegio di conquistare la confidenza di questo elegante signore un po' sabaudo un po' mittele europeo e un po' belle poc di cui mi vanto di essere amico c'è chi lo ha definito il capitano del cinema chi lo ha definito il principe delle sale io dico solo una cosa Lorenzo il magnifico credo che sia il momento di chiamare qui Lorenzo Ventavoli forza Lorenzo è il tuo momento intanto questa è il premio mettiamoci in favore di fotografi scusami no gira la calda grazie ecco qua prendo la targa e ti passo il microfono sì francamente da un lato sono estremamente imbarazzato e dall'altro sono molto riconoscente imbarazzato perché tutta questa festa che ormai dura passa dalla radio dei giornali è una festa che mi pare francamente persino eccessiva da un altro punto di vista però ho l'obbligo di ringraziare di ringraziare gli amici dell'associazione ringraziare un ringraziamento particolare per Caterina Caricano che ha assemblato un numero bellissimo di Mondoniovo e poi ringraziare tutti voi qui cosa volete vedete vedete così tanti amici sinceri e affettuosi che ci sono manifestati in questa occasione cambiamo il microfono perché non si sente a questo punto gli vedo che insomma la mia vita è andata è andata molto bene però tutto quello che facevo era all'insegna delle energie e delle forze della gioventù quindi voi che mi ricordate certi momenti particolari della mia vita suscitate anche un leggero filo di malinconia perché vedete quando si è giovani si fa tutto passioni curiosità entusiasmi voglia di fare voglia di vedere voglia di leggere poi un bel giorno le energie finiscono è finita la gioventù che non è un dato anagrafico ovviamente però di lì comincia poi un lento declino anche se si è ancora attivi un declino nel quale ogni tanto riaffiorano i ricordi i ricordi degli anni belli e quindi cari amici dell'associazione in questi giorni voi mi avete veramente stupito per la vostra cura la vostra dedizione nello stesso tempo però ricordatevi che mi avete creato un piccolo alone di malinconia adesso la vita ce ne sta andando vedremo però ho bisogno di dire due cose a proposito del film che andate a vedere primo il ritrovamento del film che si era considerato perduto non è stato assolutamente il frutto di un lavoro da storico un lavoro filologico eccetera è stato un colpo di fortuna senza nessun merito un giorno mi ha telefonato il vice sindaco di Cuneo Streri col quale avevo fatto molte manifestazioni cinematografiche mi ha detto ci sono dei miei amici che hanno trovato in cantina quattro scatole di latta con dentro delle pizze di celluloide dico sarà un film dice cosa puoi fare dico ma guarda domani vengo su a Cuneo dammi dammi il nome e l'indirizzo vado a vedere vado su chiedo un'indicazione di dove era questa strada quando mi stavo a voi avvicinando c'era un unico passante gli chiedo scusi la via tal dei tali questo mi guarda mi fa lei è quello che viene da Torino per il film ma scusi ma come fa a dire una cosa del genere perché sono stato fino adesso a casa dei miei amici ad aspettarle chi vuol che venga oggi a cercare questa strada così è iniziato il ritrovamento di un film perduto era in cantina l'ho visto subito era un film purtroppo con una copia infiammabile quindi bisognava trattarlo con molta attenzione ho chiesto agli amici se mi concedevano di portarlo giù al museo ma soprattutto gli ho chiesto come è fatta ad avere questa cosa in cantina e loro mi hanno detto che il nonno che era un grande impresario edile aveva aperto un'impresa in Etiopia in occasione dell'occupazione però siccome in Etiopia tutti gli italiani che incontrava avevano una grande malinconia per la patria per l'Italia eccetera sarebbe piaciuto tanto vedere dei film italiani questo impresario fonda una società di distribuzione dei film per proiettare i film in Etiopia dite voi qual è la storia incredibile evidentemente questo film era uno che doveva essere spedito giù e invece è rimasto lì allora io ho chiesto scusate ma quindi cos'è dell'inizio quando è che è cessata l'attività del nonno dice i primi anni 40 ecco così si è trovato questo film poi l'abbiamo portato giù a un museo abbiamo fatto il restauro eccetera è stata soprattutto tirata una copia ininfiammabile ed è stata l'unica copia esistente di questo film anche per il regista adesso però mi ho l'obbligo di aggiungere ancora una parola il regista Caracciolo finito questo suo primo film girato tra l'altro a Torino rientra a Roma e dopo l'8 settembre aderisce alla resistenza fa parte del comitato di liberazione pur essendo giovanissimo e viene catturato in una retata che era stata fatta a Roma di resistenti viene portato a Regina Celi e lui si trova in prigione quando avviene l'attentato di Via Rasella sapete che alla sera tedeschi e brigatisti neri sono andati a aprire tutte le porte del carcere hanno preso tutti quelli che c'erano li hanno portati alle fosse erdeatine e li hanno fucilati Caracciolo è stato fucilato giovane alle fosse erdeatine questo rimane il suo primo e unico film quindi oggi vedendolo abbiamo anche l'occasione di inviare un pensiero e un omaggio a un martire della resistenza grazie Renzo grazie Renzo noi vogliamo concludere dicendo che ti vogliamo veramente bene grazie di tutto per tutto quello che hai fatto per noi volevo ancora aggiungere una cosa tu questa cosa la conosci già allora vabbè innanzitutto mi ero dimenticata di dire una cosa vogliamo anche ringraziare diciamo perché tra le varie attività che l'associazione ha fatto le ha fatte anche grazie all'apporto fondamentale di alcuni assessori alla cultura tre di questi sono qui e hanno anche diciamo collaborato al numero speciale della rivista sono Fiorenzo Alfieri Marziano Marzano e Giampiero Leo e quindi vorrei un applauso anche per loro e la seconda cosa è che abbiamo una sorta di laudazio bis qua che vedremo adesso poco prima del film di un amico molto speciale tu sai già chi è l'hai già sentita ieri comunque un amico molto speciale che è già diventato diciamo virale sia sui giornali che online per cui a voi diciamo le immagini non dico niente perché lo vedrete tra poco di chi si tratta grazie e grazie a tutti voi grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti